Ritorno alla primavera, ritorno anche alle belle iniziative nel nostro meraviglioso parco Miralfiore, ritorno a Mirafiglia, un'iniziativa pensata per i bambini e le loro famiglie, legate anche alla consapevolezza del riciclo. I bambini porteranno i propri giochi, che potranno scambiare o vendere al massimo per un costo di 5 euro durante la giornata del 2 aprile, dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 18. Devo dire che dopo la felice esperienza di ottobre, che era la puntata zero, a grande richiesta, come si dice, abbiamo deciso di riproporla sia nel mese di aprile, maggio e giugno intanto. È un lavoro di squadra che facciamo assieme agli assessori Frengellucci e Camilla Murgia, è un coinvolgimento delle attività economiche, delle scuole e soprattutto della gente. Noi vogliamo che ci sia sempre più gente al parco, un polmone verde a un chilometro da Piazza del Popolo, che va in tutti i modi valorizzato, e portarci i bambini con le famiglie è una delle cose più belle che possiamo fare. Questa volta ci sarà con noi anche l'oratorio Don Bosco, che organizzerà dei mercatini, un po' di musica, giochi per i bambini e laboratori, perché il fine dell'evento sarà quello di raccogliere dei fondi per le missioni. Nel mese di maggio invece sarà domenica 7 maggio, la meraviglia, e in quell'occasione avremo sia Lega Ambiente con il suo progetto delle api che il primo giorno della settimana che la città dedicherà la protezione civile, quindi eventi dell'evento.